Buon pomeriggio a tutti, ringrazio intanto Marcello per la parola. L'argomento di questo talk appunto come dicevamo è MQTT, un protocollo leggero per l'Internet of Things. Internet of Things, sicuramente molti di voi hanno già sentito parlare di questo termine, chiamiamolo così in termini semplici, faremo una presentazione molto semplice su questo protocollo, è il mondo dei dispositivi smart interconnessi alla rete Internet, e quindi in grado di comunicare informazioni quali possono essere la temperatura di un sensore, piuttosto che una stringa da visualizzare su un display, un andamento di una pressione, o comunque in generale valori provenienti da sensori. Giusto per dirvi chi sono, due parole, ma salteremo subito questa sezione, ho conseguito la laurea specialistica in ingegneria dell'automazione, mi occupo di quello che riguarda la robotica e l'automazione industriale, e attualmente sto facendo un corso di dottorato in energie e tecnologie dell'informazione, e mi occupo di localizzazione indoor per velivoli autonomi, legacy droni. Mi occupo di IoT, quindi in generale sviluppo di hardware e firmware per sistemi embedded. Ma andiamo subito a vedere di cosa parleremo. Innanzitutto vedremo appunto che cosa è in effetti un protocollo e cosa è il protocollo MQTT. Giusto due informazioni sulla storia, vedremo subito come funziona. Faremo qualche esempio di comunicazione tra un dispositivo smart, che in questa sede immagineremo, ma potremo vederlo dopo la presentazione allo spazio FabLab. Ho portato dei dispositivi smart che potrete toccare con mano, quindi vedere. Parleremo dell'implementazione dei client e dei broker, che sono termini che adesso spiegheremo, su un mondo Arduino e su un mondo Linux. Faremo vedere uno dei tool di analisi che si utilizza per lavorare con questo protocollo. Parleremo di sicurezza e vi darò una breve descrizione su quello che troverete allo spazio espositivo FabLab. Andiamo subito nel vivo del protocollo. Appunto il protocollo innanzitutto è un insieme di regole che definiscono la comunicazione tra due o più dispositivi. Quindi un insieme di regole. Se in questa stanza dobbiamo comunicare una persona con un'altra, piuttosto che con un'altra ancora, dobbiamo avere delle regole per poter parlare senza creare una gran confusione. Quindi il protocollo è insieme di regole ben definite da qualcuno e organizzate. Il protocollo MQTT sta per Message Quick Quick Telemetry Transport. È il nome che è stato dato dagli ideatori, dagli inventori di questo protocollo. Lo vedremo dopo chi sono. Diciamo subito che è standardizzato in cima al protocollo TCPIP. Per chi non conosce questo termine, il protocollo TCPIP è il protocollo utilizzato in tutte le comunicazioni tra dispositivi in rete. Quindi dal vostro computer a qualsiasi altro tipo di infrastruttura di rete. Il protocollo MQTT è open source, quindi rientra nei temi proposti da questa giornata, è Linux Day. Ha una licenza del tipo Royalty Free. Le sue caratteristiche peculiari sono un ridotto consumo energetico, quindi dispositivi smart in genere funzionano a batteria. È necessario avere un protocollo che sia efficiente dal punto di vista energetico. è ridotto consumo di banda, quindi un ridotto uso della connessione internet, dei famosi giga che ci sono oggi nelle promozioni delle compagnie telefoniche. Questo diventa importante in infrastrutture in cui ci sono milioni di dispositivi collegati. Se i dispositivi consumano meno banda, il carico generale del sistema sarà più basso. E per questo è particolarmente indicato per applicazioni machine to machine e IoT, Internet of Things. Quando parlo con vari interlocutori del protocollo MQTT, molti mi dicono, magari la gente è più del settore, mi dicono ma perché non utilizzare un'architettura di tipo REST? L'architettura di tipo REST la facciamo molto semplice. è un sistema di trasmissione stateless in cui la connessione viene effettuata dal client al server in un solo modo. Spieghiamo meglio il concetto. Il client che è il nostro dispositivo smart, ma che potremmo essere anche noi su un browser che visualizziamo un sito di informazione, non so, per esempio Palermo Today. Noi siamo il client, richiediamo le informazioni al server, il server ci fornisce le informazioni, dopodiché appena abbiamo finito la sessione viene chiusa lì. Capiamo subito che se abbiamo a che fare invece con dispositivi smart, abbiamo bisogno di una comunicazione che sia del tipo bidirezionale. Quindi ovvero il dispositivo deve essere in grado di comunicare al server alcune informazioni, il dispositivo deve essere in grado di ricevere dal server altre informazioni. Quindi fondamentalmente a chi mi chiede perché scegliere MQTT, dover imparare un altro protocollo, dover imparare altre librerie per l'implementazione. Perché l'alternativa che ad oggi è l'architettura di tipo REST pone queste limitazioni. che abbiamo visto. Una cosa molto importante è anche che, per esempio, se noi colleghiamo un dispositivo smart all'interno della nostra abitazione, questo dispositivo per essere raggiunto dall'esterno, diciamo è necessario fare delle operazioni, quale innanzitutto bisogna avere un IP statico, dato dal proprio fornitore di servizi. Dopodiché quello che si fa in genere è aprire delle porte sul router affinché il dispositivo possa essere raggiunto dall'esterno. Con MQTT questo problema viene completamente bypassato, perché la connessione tra client, quindi dispositivo smart e server, è sempre attiva. Giusto due parole sulla storia. MQTT nasce nel 1999 da Andy Stanford, Clerc, IBM e Arlen Nipper. Nel 2011 il progetto è stato donato a Eclipse PAO e nel 2014 la versione 3.1.1 del protocollo è stata standardizzata dall'organizzazione internazionale Oasis. Quindi ad oggi è un protocollo che ha comunque una standardizzazione. Andiamo a vedere subito come funziona. Per capire come funziona faremo degli esempi, ma devo focalizzare la vostra attenzione su quelli che sono i termini chiave che useremo. E sono sostanzialmente cinque. I termini sono client, broker, topic, publish e subscribe. Procediamo per gradi, visualizziamo i primi due. Un client è un dispositivo che si connette al cloud, alla nostra rete. Quindi il nostro dispositivo smart. Può essere un sensore di temperatura, può essere un punto luce, quindi una lampadina, un dispositivo diversamente definito, diciamo. Tutti i client, tutti i dispositivi, quindi, si connettono a un unico broker. Il broker agisce da server, quindi centralizza tutte le richieste che arrivano ai dispositivi. Topic, invece, rappresenta l'argomento della comunicazione. Se effettuiamo un parallelismo, per esempio, con l'email, io invio una mail a Tizio, l'email avrà un oggetto. Oggetto che descrive sinteticamente quello che sarà l'argomento della comunicazione. Quindi, per esempio, se pensiamo a un sensore di temperatura, che deve inviare le informazioni circa la temperatura rilevata, potrà trasmettere queste informazioni col topic temperatura. Così già sappiamo che quel dato è riferito a un valore di temperatura. Le altre due parole che ci restano da definire sono publish e subscribe. La traduzione, quindi pubblica e sottoscrivi. È facile capire che se un sensore, un client deve inviare un'informazione verso il cloud, farà un'operazione di publish, di pubblicazione. Se invece deve ricevere un messaggio dal cloud, farà un'operazione di subscribe. Si sottoscriverà a un particolare topic e riceverà automaticamente tutti gli aggiornamenti relativamente a quel topic. Queste cinque parole, diciamo, sono le parole fondamentali per descrivere tutto il meccanismo alla base delle MQTT. Andiamo a vedere subito un esempio di comunicazione. Qui vi mostro i dispositivi sul fondo della pagina con contenitore circolare sono i due client, due dispositivi smart. Uno ha un sensore di temperatura, quindi è in grado di leggere la temperatura ambientale. L'altro client invece ha un display in grado di visualizzare la temperatura. Semplicemente i due client sono connessi al broker, quindi al server centrale. Vediamo l'obiettivo qual è? Vedere sul display, client 2, la temperatura generata dal client 1. Attenzione, in questa slide i dispositivi sono messi molto vicino graficamente ma potrebbero essere anche dislocati geograficamente. ...temperatura e invia, quindi la freccia arancione, il flusso dell'informazione descritto dalla freccia arancione, invia sul top, quindi sull'argomento temperatura, il dato 22 gradi. Non lo invia direttamente al client 2 che è il display, lo invia al server broker, la stessa cosa, server broker. Contestualmente il client 2 che è interessato a ricevere aggiornamenti su questa variabile di temperatura si sottoscrive, quindi i due termini che abbiamo visto prima, sul topic temperatura e riceverà automaticamente una nuova temperatura quando il sensore la pubblicherà. Ecco perché si chiama MQTT, Message Queer with Empty Transport. È comunque una comunicazione basata sui messaggi. Ripetiamo il concetto, il client 1 che deve inviare un dato al client 2 lo invia al server con un'operazione di publish. Il client 2 lo riceve con un'operazione di subscribe. Questo è un esempio molto semplice che si può andare un attimino a vedere in un altro modo. Adesso abbiamo sempre un client che fa da sensore di temperatura e questa volta tre client identificati client 2, 3 e 4 che sono tre display che devono visualizzare la stessa temperatura. Immaginiamo che io ho il sensore di temperatura in salotto voglio vedere la temperatura in altri tre ambienti dell'appartamento. Per quanto riguarda il client 1 pubblicherà sempre sul topic temperatura la nuova temperatura letta quindi 22-23 gradi. I tre client display sono tutti e tre sottoscritti al broker tutti sullo stesso topic che è il topic temperatura e riceveranno a una nuova pubblicazione di un dato da parte del client 1 tutti e tre in contemporanea il nuovo dato di temperatura. L'architettura si può ancora diciamo complicare mostrando un altro esempio. Qualsiasi client può fare operazioni di publish e di subscribe. Quindi vi faccio vedere un altro scenario. abbiamo due client in cui ognuno ha il proprio sensore di temperatura e entrambi i client hanno un display per entrambe le temperature. Questi due client possono essere in due ambienti di un appartamento per esempio o in due aree di un capannone industriale. In questo caso il client 1 effettua una lettura di temperatura e la invia con un'operazione di tipo publish sul topic temperatura 1 al broker. il client 2 con un'operazione di subscribe sul topic temperatura 1 che è quella pubblicata dal client 1 riceve la temperatura del sensore 1. La temperatura del sensore 2 la conosce perché è locale e quindi può visualizzare le due temperature. Specularmente il client 1 che conosce già la temperatura 1 si sottoscrive al topic temperatura 2 in modo da ricevere gli aggiornamenti delle letture effettuate dal client 2. Queste tre topologie che vi ho mostrato possono essere comunque miscelate tra di loro per ottenere anche diverse logiche di funzionamento diciamo a questo non c'è nessun limite qualsiasi dispositivo può pubblicare e sottoscriversi a tutti i topic che vuole. Per quanto riguarda l'implementazione del protocollo abbiamo una classificazione delle connessioni in termini di qualità del servizio le qualità del servizio possono essere di tre tipi at most once at least once e exactly once nella configurazione zero identificata col numero zero at most once il messaggio dal client al broker viene inviato una sola volta e non si ha una conferma di ricezione possono esserci scenari in cui va bene che la connessione abbia questo tipo di qualità altri no facciamo subito un esempio un sensore di temperatura che acquisisce la temperatura ogni dieci secondi e la invia a un broker se si perde un dato probabilmente diciamo non è un grosso problema mentre se stiamo monitorando l'andamento di una variabile di un processo industriale magari questo può essere un problema che causa altri problemi in catena quindi magari io vorrei essere sicuro che i messaggi non vanno persi allora posso associare alla connessione una qualità di tipo 1 at last once con questo tipo di caratteristica il dato viene inviato più volte finché non si riceve almeno una conferma di ricezione andando ancora più avanti potrei non volere diciamo ottenere delle ripetizioni di messaggio di messaggio dovuto al fatto di aver associato alla comunicazione un livello di qualità di tipo 1 allora io vorrei invece che un messaggio venisse inviato una e una sola volta con una e una sola conferma di ricezione in questo caso è necessario associare alla connessione un livello di qualità di tipo 2 attenzione che più saliamo con il livello di servizio quindi potremmo dire vabbè la facciamo tutte le connessioni di tipo exactly once quindi di tipo 2 non abbiamo problemi di ripetizioni o di perdi dei segnali è vero ma questo comporta un onere computazionale maggiore per il broker che deve gestire questi protocolli di verifica andando quindi ad aumentare sia il consumo energetico che il consumo di banda perché è necessario scambiare dei pacchetti di controllo tra client e server o broker dunque questo che abbiamo visto chiaramente era la descrizione del meccanismo che sta alla base del protocollo MQTT per avviare un'infrastruttura che utilizzi questo protocollo quindi abbiamo capito è necessario avere dei client quindi dei dispositivi che si collegano e almeno un broker i client possono essere implementati con piattaforme open source quali Arduino qui un esempio di tre schede l'Arduino YAN l'Arduino Wi-Fi e la Espot 266 della famiglia Wemos tramite le quali è possibile utilizzare le librerie Arduino MQTT e PubSubClient per inviare quindi fare operazioni di publish o sottoscriversi a dei topic su un server MQTT può sembrare una cosa diciamo difficilissima per chi non è del settore ma in realtà con il mondo Arduino questa cosa si fa veramente in molto poco tempo è quasi tutto molto pronto sì le domande eventualmente alla fine mentre l'altro componente di cui necessitiamo per implementare un'infrastruttura di tipo MQTT che utilizza il protocollo MQTT è un broker un broker conosciuto molto conosciuto si chiama Moschitto ed è un broker anch'esso open source tutto quello che stiamo vedendo oggi è open source che è comunque anche il tema della giornata anche Moschitto ha delle librerie Moschitto Pub e Moschitto Sub che servono per implementare funzionalità di publish e subscribe lato server queste servono per testare diciamo servono allo sviluppatore per testare che tutto funzioni appuntino Moschitto è disponibile per varie piattaforme Windows Mac Linux insomma non le sto a elencare tutte gira anche su Raspberry Pi non so se quanti qui conoscano la Raspberry ma un SBC diciamo un mini computer alle dimensioni veramente ridotte sul quale può girare un server di questo tipo qui inoltre per fare delle prove quindi se voglio sperimentare con dei dispositivi MQTT ma non voglio mettere in piedi un broker un server posso utilizzare il server di test di Moschitto che è raggiungibile all'indirizzo testmoschitto.org con questo è possibile effettuare connessioni sia MQTT che MQTT S MQTT S non è altro che il protocollo MQTT con l'aggiunta del protocollo di sicurezza TLS per la scifratura della comunicazione quindi per avere una comunicazione che sia confidenziale un ultimo tool che vi faccio vedere che può tornare molto utile a chi vuole sviluppare o comunque analizzare questo tipo di sistemi che imprendono il protocollo MQTT è MQTT Spy MQTT Spy è un utility open source scritta in JavaFX quindi che gira su molte macchine con diversi sistemi operativi ci permette di gestire varie connessioni ai server MQTT con una interfaccia grafica anche molto semplice da capire e ci fa vedere in tempo reale quali sono i dispositivi che stanno trasmettendo e cosa stanno trasmettendo vedete nell'esempio in basso in giallo e in verde le due righe temperatura 1 e temperatura 2 sono relative all'esempio precedente per esempio il sistema ci dice l'analizzatore ci dice che ho ricevuto 110 messaggi su temperatura 1 e l'ultimo è 23.2 gradi e 68 messaggi sul topic temperatura 2 quindi questo per fare l'analisi della comunicazione è molto importante come tool andando avanti ancora occupiamoci un attimo di sicurezza perché sia il tema del momento l'internet of things tutte cose interconnesse ma i things i dispositivi devono essere connessi in modo sicuro alla rete quindi sicurezza cosa significa innanzitutto devono essere previsti dei meccanismi di autorizzazione per esempio il broker che vi ho descritto prima da moschitto permette di inserire delle politiche ACL access control list ovvero ogni dispositivo che si collega deve fornire un username e una password che vengono salvate in un file di configurazione affinché il server possa accettare la sua connessione questo ci garantisce l'accesso al server da parte dei dispositivi che conoscono username e password ma a questo livello ancora non c'è cifratura dei dati come si ottiene la protezione da cifratura implementando anche il protocollo TLS MQTT è diciamo ready quindi pronto per essere utilizzato col TLS 1.3 TLS 1.3 è l'ultima specifica diciamo del protocollo di sicurezza TLS che permette la sanction resumption quindi permette di diminuire lo scambio di dati quando una connessione viene ristabilita dopo che era passata diciamo in uno stato di idle quindi di attesa il protocollo TLS c'è sicura autenticazione integrità dei dati e confidenzialità quindi sniffando diciamo il traffico di rete con un qualsiasi analizzatore di rete vedrete i pacchetti che scorrono ma li vedete cifrati quindi non avete molto che farci anche se li sniffate dalla rete sì giusti l'ultima slide vi mostro invece quello che vedrete nello spazio dispositivo FabLab ho portato tre dispositivi che sono veramente molto minuscoli stanno in una mano tutti e tre questi dispositivi hanno ognuno un led e un pulsante un led e un pulsante e si connettono al broker al server con queste regole magari questo diciamo perché è interessato e passerà dopo allo spazio dispositivo lo potremo spiegare anche un po' nel dettaglio quello che volevo farvi vedere da questa slide qui è che prendiamo per esempio il client 1 il client 1 ha un flusso di publish quindi in arancione sul button 1 quindi il bottone 1 e un flusso di subscribe sul bottone 2 quindi trasmetto le informazioni del pulsante 1 e ricevo le informazioni dal pulsante 2 vediamo il client 2 fa un publish sul pulsante 2 quindi pubblica le eventuali pressioni che agiscono sulla scheda 2 ed è sottoscritto alle pressioni dei pulsanti dalla scheda 1 e dalla scheda 3 vedremo lì davanti con queste schede sotto le mani a quale logica corrisponde questo tipo di impianto che vi vi farò vedere per per quanto riguarda queste cose qui diciamo in collaborazione col Fab Lab Palermo nel mese di novembre verrà si terrà un corso specifico per IoT dove è un workshop diciamo di 4 ore in cui si apprenderanno sia sicuramente dei dettagli maggiori rispetto al protocollo MQTT ma verrà anche fatto vedere come queste cose si implementano con il mondo Arduino e quindi sulle schede elettroniche grazie per l'attenzione se ci sono delle non ha potenza di calcolo cioè come viene gestita qual è l'interfaccia che diciamo fa comunicare con il server allora il client ha una potenza di calcolo che comunque può essere anche molto minima sicuramente quello che deve avere l'abbiamo fatto vedere nel slide in cui faccio vedere l'hardware su quale può essere implementato il client deve avere connettività di rete quindi deve avere o una scheda ethernet o un chip wifi per poter collegarsi a una rete con internet dal punto di vista computazionale è chiaro qualsiasi dispositivo smart avrà una potenza computazionale sia solo anche per leggere un sensore serve un minimo di potenza per quanto piccola sia serve un microcontrollore all'interno un microprocessore o qualcosa del genere è chiaro che invece la potenza computazionale aumenta la richiesta aumenta quando andiamo a inserire sul protocollo MQTT anche il protocollo TLS per la cifratura in quel caso è necessario consiglio altamente di utilizzare dei chip con cifratura hardware quindi che la cifratura sia effettuata da un blocco specifico all'interno dell'hardware per velocizzare di molto l'esecuzione del software firmware ma quindi il client comunica con il broker anche lui solamente perché deve comunicare con il broker se già allo schermo quindi la temperatura potremmo andare direttamente allo schermo perché deve comunicare con il broker sì perché l'esempio il client non ha bisogno di comunicare ritorniamo un attimo giusto per chiarire questo aspetto in questo caso noi abbiamo due client il client uno ha un sensore di temperatura uno e ha un display delle temperature uno e due è vero che il client conosce la temperatura uno ma non conosce la temperatura due che comunque deve visualizzare per questo è connesso al cloud dal broker perché dal broker il sistema uno si attenderà di ricevere informazioni sulla temperatura due questi sistemi possono funzionare isolati dal cloud se il client uno legge solo la temperatura uno e visualizza solo la temperatura uno e il client due legge solo la temperatura due e visualizza la due ma se io voglio che entrambi visualizzino le temperature di entrambi i client devo scambiare questo dato tra due dispositivi dispositivi che possono essere anche geograficamente dislocati l'importante è che abbiano una connessione a internet una rete wifi un cavo di rete un qualsiasi cosa che li colleghi a internet comunque se hai altre domande più specifiche possiamo anche dopo così lasciamo spazio agli altri relatori dopo passi dallo spazio espositivo e ne parliamo